salve amici e benvenuti è il momento di parlare un po di questo cyberpunk 2 o cyberpunk 2077 2078 2077 bis insomma di project orion quello che è stato presentato come progetto appunto come nome in codice da city project red insieme a tutti gli altri giochi 6 7 giochi 6 7 progetti in realtà ho fatto un video omnicomprensivo di tutti gli annunci è ben spiegato però oggi volevo parlare solamente di questo futuro di cyberpunk 2077 mi sembra doveroso dato che questo canale è nato proprio per seguire quel cyberpunk 2077 che comunque ha deluso tantissimi al lancio poi è migliorato ci sono state un sacco di patch correttive adesso è un gioco decisamente consigliabile decisamente molto più fixato assolutamente che non ha raggiunto quel potenziale full potenziale che doveva e che era stato promesso quindi non lo ha raggiunto però è certamente in uno stato accettabile molto più accettabile rispetto al lancio ma quindi cosa noi ci potremmo aspettare per il prossimo futuro è da questo seguito perché vorrà essere proprio un seguito con lo stesso universo e dove dovrà esplodere il vero potenziale di cyberpunk parole di silly project red rispetto a questo project orion ora io vi dirò un po il mio punto di vista perché insomma da una persona che ha letteralmente creato un canale youtube proprio per seguire quel gioco e che chiaramente è stato deluso ho un certo punto di vista rispetto a questo seguito sicuramente mi fa molto piacere che non abbiano mollato il colpo su questo universo che loro stessi hanno creato chiaramente tutto grazie anche al gioco cartaceo di cyberpunk su cui il gioco si basa parzialmente se non totalmente come licenza ma come loro lo hanno trasposto a schermo con night city a livello estetico e proprio di feeling dell'ambiente dell'universo è qualcosa che loro hanno creato e quella cosa è venuta molto molto bene è riuscita incredibilmente bene anche in cyberpunk 2077 stesso come gioco anche al lancio quindi ovviamente stiamo cercando di non vedere tutte le problematiche i bug e tutto quanto ma proprio la costruzione della città del mondo è l'idea che c'era dietro il design design che io adoro non è un caso che io abbia comprato questa sedia brandizzata cyberpunk o abbia come vedete lì dietro l'art book o anche un action figure e io non sono proprio la persona che compra queste cose mi è piaciuta veramente tanto mi è piaciuta prima ancora che uscisse il gioco chiaramente a livello di marketing a livello di quello che uno poteva immaginare dell'estetica di cyberpunk 2077 quindi chiaramente per me è un piacere sapere che continueranno a fare un altro gioco su questo tipo di mondo e ambientazione il problema è come lo faranno le mie aspettative non possono mai essere le stesse che avevo nel 2019 o nel 2020 prima che uscisse il gioco perché in quel periodo storico chiaramente tutti non solo io tutti avevano un certo tipo di idea di city project red avevano visto una piccola compagnia che anno dopo anno gioco dopo gioco era sempre migliorata e aveva fatto un gioco capolavoro come the witcher 3 che al netto dei comunque suoi problemi tecnici di combat system di sviluppo del personaggio di intelligenza artificiale comunque avevano creato un gioco incredibile un gdr con delle storie incredibili un'ambientazione eccezionale è un mondo da esplorare sempre sempre interessante oltre che appunto dei personaggi come gerald ma non solo anche tutte le sue controparti e diciamo co protagonisti anche siri o zen jennifer o tutti gli altri insomma tutti estremamente caratterizzati quindi insomma che dire capite dove sto andando a parare le aspettative che si avevano pre cyberpunk 2077 su un gioco di project red erano di un certo tipo adesso necessariamente dobbiamo avere aspettative diverse cioè dobbiamo andare estremamente con i piedi di piombo il fallimento il grande fallimento del lancio di cyberpunk 2077 e chiaramente parlo di un fallimento proprio tecnico non certamente a livello economico perché in realtà loro hanno stravenduto quel gioco già al day one ma sappiamo tutti questo è stato un grosso grosso colpo per tutta l'industria ha fatto capire anche ad altri che non era possibile lanciare un gioco in quello stato e ne hanno pagato le conseguenze le hanno pagate a livello di reputazione a livello economico hanno perso in borsa tantissimo la società si di project red e e ci hanno messo del tempo per un po recuperare il il terreno perduto ecco insomma facendo un po di patch cercando di coinvolgere comunque il pubblico non perdendo la presa e creando anche altri prodotti alternativi e comunque complementari come può essere stata la serie anime edge runners che è andata benissimo per recuperare comunque la fiducia del pubblico ma bisogna stare sempre molto attenti perché comunque questo studio è estremamente diciamo così ambizioso e a volte esagera su cyberpunk 2077 ha esagerato il management ha fatto degli errori allucinanti cosa che i stessi suoi sviluppatori cercavano di far capire al management che il gioco non era pronto non poteva uscire in quelle condizioni invece l'hanno fatto uscire lo stesso ora per il prossimo gioco qualsiasi sarà il suo nome loro non possono sbagliare tutti hanno gli occhi puntati su di loro nonostante comunque si siano messi una posizione ulteriormente secondo me pericolosa perché comunque lanciando 5 6 7 progetti non dico contemporaneamente ma comunque insieme visti nel prossimo futuro stanno rischiando ora loro hanno spostato tutte le loro forze nei due studi americani che sono stati fondati uno già c'era e uno nuovo è stato fondato da poco e quindi tutti quelli che lavoravano su cyberpunk praticamente lavoreranno lì negli stati uniti america in quegli studi sarà probabilmente più semplice anche ampliare il team con developer americani perché comunque è sempre meglio lavorare in ufficio piuttosto che in remoto e quindi si spera che comunque a livello di forza lavoro sia tutto possibile diciamo gestibile il problema però non è lo sviluppo per assurdo voi direte tutti sti bug il problema sarà stato lo sviluppo no il problema è sempre stato è stato chiaro poi mesi dopo si è visto il management cioè le decisioni della testa che dicevano cosa bisognava fare nonostante appunto anche gli sviluppatori stessi fossero stati lì a consigliare che non era il momento giusto di uscire che mancavano troppe meccaniche ancora all'interno del gioco il codice non era pronto poi il management ha deciso quello che ha deciso quindi tutto sta lì tutto sta in come verrà gestito il prossimo cyberpunk perché appunto tutto è apparecchiato a mio avviso nel senso che a livello di lore a livello di ambientazione è tutto già pronto in realtà molte cose sono già pronte sicuramente si riproporrà night city in qualche altra salsa perché comunque night city non è una piccola metropoli il punto è riusciranno a gestire le pipeline di lavoro in maniera giusta riusciranno a gestire anche il marketing riusciranno a non esagerare con le promesse perché perché purtroppo a prescindere da tutto anche questo conta cioè caricare di aspettative di promesse il pubblico per poi deluderlo perché fisicamente stavi promettendo cose che non c'erano dentro il gioco perché non erano proprio state sviluppate o erano state tagliate questo ha un enorme impatto quindi devono imparare dai loro errori tutti riusciranno a guardare non possono esagerare col marketing devono organizzarsi il lavoro in maniera giusta in modo da avere tutte le feature che dovrebbero poi stare dentro il gioco quindi ok io aspetto aspetteremo tutti quanti questo nuovo cyberpunk e quando arriverà arriverà spero che seguiranno semplicemente quello che avevano detto nel 2012 nel primo trailer ovvero coming when is ready questi insomma erano i miei due centesimi volevo ampliare un po il discorso a parte quel video dove avevo parlato di tutti i progetti contemporaneamente rispetto a cyberpunk 2078 non so come si chiamerà comunque project orion detto ciò ragazzi fatemi sapere un po cosa ne pensate anche voi sotto nei commenti per il resto ci becchiamo prossimamente come sempre per altri video qua sempre sul gaming statemi bene e ci becchiamo alla prossima ciao ciao